L'ausiliario elettrico per interruttori C60 di Acti9 modello IOF più OF barra SD è un doppio contatto di segnalazione in un unico dispositivo. Grazie al selettore meccanico posto sul lato del dispositivo è possibile scegliere due diverse combinazioni IOF barra OF per utilizzare due contatti in commutazione di segnalazione stato dell'interruttore associato aperto o chiuso oppure IOF barra SD per utilizzare un contatto di segnalazione stato aperto o chiuso ed un secondo contatto di segnalazione sganciato in seguito a guasto elettrico o intervento degli sganciatori. Dalla finestrella posta sul fronte del dispositivo è disponibile l'identificazione della modalità di contatto preselezionata. Visualizzazione sul fronte dell'intervento su guasto SD attraverso un indicatore meccanico di colore rosso.